SORRIDENDO FIM FESTIVAL Ludovica Nasti, l'avrete tutti riconosciuta per quella importante fiction su Rai 1 che però è andata oltre, Ludovica Nasti adesso fa tanto altro dici intanto quali sono i tuoi progetti è andato al cinema Mondocane è andato anche su Sky un film con Alessandro Rocelli prodotto da Groenlandia con Barbara Ronchi e Alessandro Borghi dove sono una delle protagoniste poi è uscito sempre al cinema Rosa P3 Stella con regia di Marcello Sannino, Ivana Lotito dove sono sempre lì una delle protagoniste un altro film molto molto bello e parlano tutti di tematiche molto molto attuali e molto sociali importanti come quella di SORRIDENDO FIM FESTIVAL tra l'altro attualissima, importantissima in cui la disabilità viene analizzata e approfondita sotto tutti i punti di vista Sì esatto, sotto tutti i punti di vista penso che poi ognuno abbia un pensiero ognuno poi esprime un pensiero al riguardo e il mio è che credo che la diversità sia poi una cosa normale sia una normalità poi bisogna vedere ognuno come la guarda io penso che sono gli occhi poi a dire tutto ad esprimere tutto se tu la guardi con un occhio è normale se tu la guardi con un altro invece è tutta un'altra cosa Questo è un festival dei giovani per i giovani e tu incarni perfettamente la giovane che tra virgolette ce l'ha fatta Non credo di avercela fatta 100% perché penso che la strada sia ancora molto lunga e ho ancora tanto da imparare ed è sempre bello istruirsi e avere una cultura sempre importante io ci ho messo molta passione bisogna essere molto molto umili ed ecco, saper affrontare anche tematiche del genere perché penso sia importantissimo e un po' tutti abbiamo bisogno di distruirci sempre di più ed ecco, penso che un festival come Sorridendo possa davvero insegnare tante tante cose e poi, ritornando ai progetti di prima perché non ho finito Ce ne sono tanti non abbiamo voluto di troppo ma ce ne sono tanti esatto ho finito da poco di girare Romulus per Sky ho girato una serie su Rai 1 di cui non posso ancora dire il nome ho girato no, proprio niente un indice niente, zero non ci provare non ci provare e poi ho girato un documentario a Cinecittà di cui non posso dire ancora nulla però lo saprete presto presto e ora inizio a girare un film la settimana prossima proprio appena finisco sorridendo corro sul set avete sentito giovani bisogna avere determinazione e umiltà giusto Lodovica sorridendo film festival restate con noi perché ne sentirete ancora delle belle molto belle